Tevez, Giolente, scambio per i due, lo spagnolo su in giro, attenzione, Giolente, vuole liberare il sinistro, serve Perin, Perin, e Giolente ancora l'occasione, Perin alla fine la blocca, Tevez, che va con l'isla, il servizio per lui, mette dentro, deviato, Perin, Giolente, Perin, strepitoso in seconda battuta, Vidal, sopra la perversa, Vapirlo dentro, con un po' di testa ancora, Piellini più in alto di tutti, e porta che termina, sopra la perversa, Asamoah, lo so giù da Piondini, crescio di rigore, Vidal, Giolente, Silvacrazio, scambio di Tevez, più veloce di Portanova, che vuole stare di dietro, Tevez vuole puntare Portanova, atteggiare a Tevez, Tevez, lo mette dentro, arriva Pindolo, 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 deve cacciare Pindolo, contatto per Perin, Sava e Cero, con una volta, Glibradino per Piondini, attenzione, pallone dentro, Vidalacci, vuole rimarci, Antonelli, una tocca di testa, nel portanova, fai un articino su Girardini, spazio per il cross, trova Tevez, atteggiare Tevez, montare con il testo, triplica, Tevez, Sava, capo di Stavis, si inventa il quinto gol, il campionato, gol a zero per la Juventus, che di fondo a Sava, poi per Tevez, tutto destro, Perin, e poi suonante, incredibile, ultimo altro di una sfida stradominata dalla Juventus.